siamo a portici dall'ibridine e da poco si è conclusa la presentazione del libro di laura massa dal titolo ali di pietra vocali editrice facciamo anche vedere il libro molto bello una raccolta di poesie dedicate ad un'isola chiediamo all'autrice come nasce l'idea di dedicare una raccolta di poesie a un'isola favigliana che bellissima allora l'isola rappresenta fondamentalmente una grande metafora in diverse culture non soltanto quindi il senso metaforico ma anche nel senso vero e proprio perché io ho un rapporto d'amore con quest'isola da quasi 40 anni e nel corso di questo lungo arco di tempo ho visto questa terra cambiare sotto la spinta di ovviamente motivi economici che stanno radicalmente mutando questo territorio dalle tradizioni antichissime in qualcosa di molto diverso e ho sentito in me l'esigenza di fermare il tempo in un certo senso e recuperare tutti quei valori tutte quelle storie racconti che specialmente dagli anziani provenivano oralmente e che si sarebbero sicuramente persi ad esempio c'era la tradizione della tonnara della mattanza che risale a tempi immemorabili e che è stata è diventata poi nota attraverso le vicende della famiglia Florio che è stata al centro di un romanzo di successo anzi di due romanzi di successo della bravissima stefania auci ebbene dai racconti degli anziani ho scoperto che franca Florio per esempio veniva a curare le sue ferite e i suoi dolori per la perdita dei figli proprio a favignana passeggiando sotto sotto la nostra casa o la tradizione della della mattanza con i canti di lavoro le cialome che si sono perse le nuove generazioni chiaramente non le imparano perché è una forma di pesca che non esiste più e ci sono gli ultimi tonnaroti dopo poi la scomparsa dell'ultimo grande rice della tonnara che conservano ancora memoria di queste grandi imprese di queste grandi mattanze del passato che hanno un misto di eroico e antico come le cave di tufo che rappresentavano una risorsa dell'isola e hanno comportato un mutamento nel paesaggio radicale ormai non non si usa più cavare il tufo dall'isola ma hanno creato in pratica delle vere e proprie architetture naturali nel tufo che sono spettacolari adesso e che probabilmente si è persa la memoria di come queste queste strutture siano state realizzate e allora nasce il bisogno di scrivere di fermare sulla carta i racconti le leggende le cialome e tutto ciò perché in poesia poi è un altro paio di maniche perché si poteva scrivere anche una guida semplicemente oppure un reportage storico ma il linguaggio come mi piace pensare spesso il linguaggio della poesia è un linguaggio emotivo ed erano proprio le emozioni quelle che volevo mantenere le poesie sono accompagnate da immagini ogni poesia è corredata da un'immagine relativa dai ritratti dei personaggi come i cavatori di tufo oppure i pescatori a immagini relative alla alla flora alla fauna perché questa scelta di associare la parola all'immagine per dare maggiore forza beh si è creata una come una trasfusione di di emozioni fra me e l'illustratrice che ha pensato di di rafforzare appunto l'immagine creata dalle parole tramite gli acquerelli perché sostanzialmente ecco se da un lato si impedisce al lettore di immaginare la scena d'altro canto invece poiché l'illustratrice condivide le stesse esperienze essendo quasi nativa dell'isola allora si è creata una sinergia fantastica fra di noi perché addirittura siamo arrivati al punto che lei era capace di dipingere su un semplice titolo senza aver letto ed io alla fine ho tratto ispirazione dai suoi acquerelli e quindi c'è un connubio perfetto tra immagine e parole ricordiamo il nome dell'illustratrice donatella gessoni donatella gessoni acquarellista e appunto di origini famiglianesi la parola parola lieve anche se rappresenta qualcosa di di serio di forte perché c'è anche una come dire attraverso le poesie una sottolineatura appunto come diceva lei precedentemente di un cambiamento si un cambiamento non sempre impositivo quindi la parola che diventa o conserva la memoria qualcosa che è stato che diversamente non si vuole lasciare perdere andare che vada per certo certo le chiedo una cosa perché la chiedo a tutti i poeti perché la poesia c'è particolare è un modo per racchiudere un'immagine per dare più forza incisività a un pensiero assolutamente perché la poesia per sua caratteristica ha il dono della sintesi ed è per questo tanto più complesso scegliere le parole perché in poche righe è concentrato si può concentrare un concetto molto ampio e quindi il dono della sintesi è quello che ogni poeta dovrebbe avere insieme a la scelta accuratissima di ciascuna parola che deve essere anche nel contempo musicale altrimenti sarebbe inutile cioè è meglio scrivere una cosa infatti la ricerca delle parole è stata anche dettata dalla dall'esigenza della musicalità non soltanto come contenuto ma anche come suono pur non ricercando la rima ma un inseguendo la rima in ogni caso ciò che distingue una poesia da una prosa è il ritmo è la melodia che si crea leggendo e a questo sono stata abbastanza attenta nel senso di scegliere concludiamo con una se d'accordo con la lettura di una poesia sceglia lei sì, beh ce ne sono molte che possono essere rappresentative di questo mondo che magari ecco sta lentamente scomparendo forse quella che Dium lo rappresenta è Gusa Ferita e Gusa è l'antico nome di Farignana e la ferita si riferisce proprio alle cave di Tufo che una volta erano un luogo di morte per chi ci lavorava e che adesso in pratica una volta terminata l'estrazione e cessata da anni ha lasciato in vita quasi nessuno degli antichi cavatori si è trasformata in fondo in un paesaggio spettacolare fatto di guglie, di torri bianche e svettanti sopra il mare che è di un azzurro notevole, di un turchese veramente unico e quindi è diventato un luogo di attrazione quando prima era un luogo di dolore e questo ricorda un po' la metafora appunto della bellezza che nasce necessariamente dal dolore E Gusa Ferita Un tempo, mani lodose e dolenti squarciavano il tuo ventre bianco strappandoti il cuore nella polvere che ad ogni sospiro era morte appesi come rami torti i dorsi purvi e scuri di tanti tuoi figli senza sorriso a poco, a poco scivolavi verso il mare quel mare che era dentro, dura sabbia di pietra il mare che era tuo padre, prima dell'uomo sulla terra un mare che non ti abbracciava ma ti portava via su navi sconosciute ora nel sole le antiche stimmate risplendono in temerarie bianche simmetrie lasciando il viaggiatore in attonito stupore le tue ferite esposte sono preziose quanto una vita nuova come coccio d'autore le cui fratture sono colmate d'oro sono la meraviglia che nasce dal dolore grazie facciamo vedere nuovamente la copertina e invitiamo alla lettura di questa raccosta di poesie davvero molto interessante perché oltre ad avere il pregio della musicalità pone l'attenzione su un territorio su dei ricordi che assolutamente meritano di non disperdersi grazie grazie a lei grazie a lei